Mentre lui si sta andando avanti alla velocità massima per 5 secondi, ora è appena girato a sinistra di 44 gradi, ora sta proseguendo avanti sempre la stessa vista e ora ha girato di nuovo a sinistra e ora si sta dirigendo avanti senza metri avanti, ha girato di nuovo a sinistra e sta andando di nuovo avanti per 5 secondi alla velocità massima e ora ha girato a sinistra e si è fermato. Io farei un applauso a questa telepronaca.